Bene, siamo qua con Adele Fabri, QuartM1, e abbiamo tre domande per te. La prima è, come sta andando questa esperienza verso l'officine social movie? Allora, questa esperienza sta andando molto bene, perché l'ambiente in cui lavoriamo, cioè in cui ci mettono a lavorare, è un ambiente molto tranquillo, molto libero, diciamo, e le persone con cui andiamo a lavorare sono comunque anche loro tranquille e, diciamo, questo va a facilitare molto tutto. Perché hai scelto il tuo gruppo e che gruppo hai scelto? Allora, ho scelto il gruppo organizzazione e ho scelto questo gruppo perché penso che sia quello che mi dà più, può ampliare di più le mie prospettive per il futuro. E a parere tuo, ti tornerà utile questa esperienza in futuro? Come ho già detto prima, io spero vivamente che questo gruppo che ho scelto mi aiuti in futuro a saper ampliare di più le mie conoscenze, comunque, anche perché magari ampliare anche le mie esperienze di lavoro, per l'appunto come organizzare magari un festival o anche solo magari diventare manager o comunque anche solamente il lavoro in ufficio, dato che con il mio gruppo vado a lavorare in ufficio. Ok. Ok.